Ben trovati figlioli e figliole, siamo di nuovo qui, nella sala che ha dato inizio a questo canale. Qui, su questa poltrona, abbiamo dato inizio al progetto Lib, leggiamo insieme la Bibbia. Ora Lib ha cambiato piattaforma e si manifesta a tutti voi lunedì sera alle 21 sulla parrocchia Viola. Venite a seguire le fantastiche avventure di Dio in diretta e aiutateci ad attivare il cronovisore. La nostra straordinaria macchina del tempo che ci permette di dare uno sguardo al passato per capire come sono andate veramente le cose. In questa puntata daremo un'occhiata a ciò che ha ispirato il Libro dei Numeri, il quarto dell'Antico Testamento. Ed il momento in cui il popolo di Israele inizia il suo viaggio nel deserto abbandonando il Monte Sinai dove Dio aveva stretto un patto con loro. E quindi mi sembra giusto ricordare e ribadire che appunto Dio, il Dieci Comandamenti, il patto, l'aveva fatto con loro, col popolo di Israele, mica con tutta l'umanità. La Bibbia lo dimostra sempre in maniera chiara e incontrovertibile. A Dio, del resto del mondo, non frega un cazzo. In realtà nel Libro dei Numeri è evidente che a Dio non frega un cazzo nemmeno del suo popolo. A volte sembra stia cercando solo delle scuse per ammazzarli. Crea delle regole assurde che sa già che trasgrediranno, ma comunque finisce per ammazzarli. A volte nemmeno li avverte che esistono delle regole, ma comunque li ammazza se le infrangono. I cristiani giustificano il comportamento di merda del loro Dio con la famosissima pedagogia divina. Ovvero che secondo loro quel Dio onnipotente e onnisciente procede per gradi per addestrare l'umanità. Quindi Dio si adatta alla discutibile morale dell'epoca e alla brutale cultura per poi mano a mano elevarli verso una giustezza più in equilibrio con i nostri tempi moderni. Cioè esattamente quello che accade ad ogni cultura che viaggia sulla nostra stessa linea temporale. Si evolve ed insieme ad essa si evolve la loro idea di Dio. Non è che Dio si traveste da stronzo per poi dopo un po' dire no dai regà stavo a scherzare, in realtà son bravo ragazzo. Nel libro dei numeri il popolo di Israele inizia il suo viaggio verso la terra promessa ma le cose non andranno secondo i piani. Cioè in realtà sì, vanno secondo i piani di Dio, quindi di merda. Gabriele, senti un po', ma sono passati due anni, tu dici che ci hanno capito qualcosa? Gli ho dato regole su regole, gli ho insegnato tutto quello che gli potevo insegnare per essere santi. Secondo te hanno capito? Ma non saprei signore, lei stesso li chiama il popolo dalla dura cervice e penso che intenda che abbiano la testa dura piuttosto che una vagina forte. Vabbè famo una prova. Mosè, Mosè al rapporto. Eccomi signore, sono pronto. Come, come tutto porno? No, non ho capito, 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 sono pronto, pronto. Ma se è pervertito pure Mosè, se è pervertito. Senti, vattene prima che ti sparo una palla di fuoco pure a te, va? Hai sentito Gabriele? Ma io che devo fare con questi? Eppure ho dato delle regole chiare. Beh sì, per carità, chiare erano chiare, certo che però tra regole inutili e regole brutali c'è l'imbarazzo della scelta. Come ti permetti? Per dire, però magari non è che poteva educarli, che ne so, all'amore, al rispetto, all'empatia, elevare la loro cultura. A questo punto fanno li pure immortali, no? Eliminiamo il dolore, le malattie, fanno gli via energia direttamente dal sole così in sé devono nutrire. Eh? Io ti ho capito a te, sai? Te sei uno di quelli che quando gioca ai videogiochi mette il trucco dei sordi infiniti e munizioni, il god mode, eh? Ma sai che palle, Gabriele? La vita deve essere imprevedibile, piena di sorprese. Guarda Shabbalakla, guardalo che sta tutto piegato, sudato, accortiva i campi, che poi stavo nel deserto e non ho capito che cazzo se cortiva. Comunque guardalo, l'angoscia, la frustrazione, il dolore, tutto per sfamare se stessa la famiglia, che poi con sto gallo magari li pia, collassa e muore, capito? Ecco, vedi? Imprevedibilità. La vita deve essere così, una sorpresa continua, piena di sfide, sempre più difficile, con poche possibilità. Un cielo mio marito! Piena d'ostacoli e pericoli, in impegno continuo. Ma perché? Ma come perché? Perché se non c'è Giaco più, Gabriele, ma noio, scusa, no? Dai, che è molto a Gabriele, guarda il prossimo livello. Nel libro dei numeri troviamo anche le regole del voto di consacrazione a Dio. Quando un ebreo consacra la sua vita a Dio si dice nazireato. Da nazir consacrare. O almeno così dicono. Oh, signore, ho una bellissima notizia. Molti uomini hanno fatto nazireato. Oh, me stesso. Ma è una cosa terribile. Cosa? Ha sentito, Gabriele? Ma quello poi imbossa dei livelli più alti. Cioè, mi scombustano questa cosa. Ma lei è presto. Signore, guardi che nazireato significa consacrazione. Cioè, degli uomini si sono consacrati a lei. Ah, meno male, ho preso un corpo. Cioè, non è che mi frega qualcosa di questi. Però, capito, vederli morire subito tutti assieme mi rovinava tutti i piani. Mi devi dire qualcosa, signore? No, no, niente, tranquillo. È una cosa che viene dopo. Ah, sto tranquillo. Eh? Come è? Non era convincente, comunque. No, perché ho usato un'intonazione divina, capito? È diversa dal linguaggio dell'uomo, quindi ti sembra, t'ha confuso, ecco. Quindi sto tranquillo. Ammappiti. Ammappiti sarebbe? Ammappiti significa fidati. Te devi fidare, Mosè. Vedrai che se te fidi andrà sempre tutto bene. Signore, è sicuro che questo è il popolo eletto? Cioè, li hai eletti proprio lei? Perché? Perché mi stanno sul cazzo, Gabriele. È per quello. Più si procede nella lettura, più risulta chiaro che amore, misericordia, pace e bontà non fanno parte di questo libro. Ma in compenso troverete interi capitoli su come Dio vuole la tenda, i materiali, i ricami, il bisso ritorto. Un enzomiccio capriccioso con deliri di onnipotenza. Esigenze che naturalmente troviamo anche nel libro dei numeri. Tutto pronto, eh, Gabriele? Tra poco partiamo. Bene, signore. Anche se non mi è ancora chiaro, il motivo della tenda è tutta quella precisione nel design. Gabriele, essere Dio onnipotente mica vuol dire che devo andare in giro come uno scappato di casa e ci vuole comunque una certa eleganza. E bisso ritorto. Sempre. E bisso ritorto è come il colore nero. Sta bene su... Siamo su Twitch, signore. Si dice di colore afroamericano. De domenà, Gabriele. Signore, perdoni l'interruzione, abbiamo un problema, c'è un intruso nell'accampamento. Un intruso? Chi osa sfidare la mia ira? Portalo immediatamente al mio cospetto. A Gesù. Ma che cazzo sta a fare qua? È presto, stavo ancora al quarto libro d'Antico Testamento. Oh, uffa, ma io mi annoio. Perché ha così fretta di essere crocifisso? Uno degli episodi più esplicativi per quanto riguarda l'inquadrare la personalità di Dio è quando il popolo di Israele inizia a lamentarsi. Perché ricordiamolo, stavano viaggiando nel deserto, è normale che ci sia qualche disagio. Soprattutto quando non fai altro che nutrirti di manna. Perché Dio è onnipotente, ma ha un menù limitato. Così un giorno gli israeliti non ce la fanno più e chiedono al Signore se fosse possibile cambiare dieta. E lui stranamente li accontenta, facendo apparire delle quaglie. Loro tutti contenti ringraziano e iniziano a mangiare. È Dio rosica. E li fa uccidere. Perché? Perché sì, è Dio, fa come gli pare. Signore, mi perdoni, abbiamo un problema. Uno solo, Mosè? Il popolo si sta lamentando, non so più che fare per contenerlo, se la sta prendendo con me. Rimpiangono quando ero in Egitto perché sono stufi di mangiare la manna. Scusa, e mo' che c'è che non va con la manna? Vengono delle fogasce deliziose, vanno giù come niente. È proprio quello il problema, Signore. Vanno giù facilmente e non si fermano. Escono altrettanto facilmente. Vabbè, ho capito. Da domani carne per tutti. Ottimo, andrò subito a riferire. Grazie, Signore. La carne è stata apprezzatissima. Stanno tutti festeggiando e mangiando a volontà. Grazie a lei. Ma già stanno a manniamo, Mosè. Come hanno usato. Ho detto forse buon appetito. Ucciderò molti di loro per questo. Va, e riferisci. Una domanda, Signore. Ma che senso ha lasciarli con la manna per anni e poi infine regalargli la carne ma arrabbiarsi se si sbrigano a mangiarla. L'educazione, Gabriele. L'educazione è importante, ok? Guardali. Tutti a mangiare di corsa che i mani sbrodolassero. E lei li sta uccidendo per questo? È colpa mia. È colpa mia, Gabriele, se ancora non hanno capito che so stronzo. È colpa mia. In effetti. Il libro dei numeri ci regala un altro episodio meraviglioso, illuminante per quel che riguarda l'amore di Dio. Come molti di voi sanno, il settimo giorno Dio si riposò. Quindi ha imposto per tutti la regola di astenersi da qualsiasi lavoro il settimo giorno. Per gli ebrei il settimo giorno è il sabato. E fu proprio un sabato quello in cui un uomo uscì dalla sua tenda per andare a raccogliere un po' di legna. E sapete cosa ordinò Dio? Il Dio d'amore. Ordinò al suo popolo di prendere quell'uomo, portarlo fuori dall'accampamento e ucciderlo a sassate. Pedagogia divina, perché Dio ci dà la morale che volge al bene. Migliaia di anni fa, quello era bene. Era la legge di Dio. No, no, vai, vai. Mosè! Nel viaggio gli israeliti iniziano ad avere contatti anche con le popolazioni autoctone. Perché ricordiamo che la terra che Dio gli ha promesso era già abitata. C'era già gente, c'erano città, villaggi, insediamenti. E a quanto pare, secondo quello che ci dice il libro, c'erano anche i giganti. Poi dici che non è in fantasy. Signore, mi scusi, ma ho sentito gli israeliti dire di aver visto dei giganti. Per caso ho ricominciato a bere? No, vabbè, Gabriele. Ma lo sai che dopo i dinosauri ho smesso, no? Ma ti pare che mi metto a fare i giganti? Sono quelli che sono andati in cazzo in barattola appena vedono uno ardo più del metro e sessanta pensano che è gigante. Senti, senti una cosa, come volutamente una cosa cagliarda. Ma se gli fanno scrivere un libro a sta gente, credo sono tipo un resoconto dall'arba dei tempi fino adesso, no? Dici che può funzionare. Può funzionare a quale scopo? In che senso? Ma no, più che altro per fargli capire pure alle nuove generazioni chissà e che cosa voglio, capito? Non vorrei che tra qualche migliaio di anni si mettano a parlare d'amore e di misericordia, capito? Beh, signore, gli umani sono capaci di tutto. Come dire, in fondo li ha fatti lei, no? Eh, lo so. Ma comunque gli ingredienti per fargli erano quelli, eh. Satana poi mi ha rubato tutto il barattolo del pensiero critico. Mi è rimasta la cesta per se coglioni c'ho dovuto mettere quella. Che dovevo fare? C'è un altro episodio che troviamo nel libro dei numeri che riguarda l'amore di Dio. Il viaggio verso la terra promessa non stava andando benissimo. Poi io ti so, 40 anni di cammino nel deserto. Che t'aspetti? Non magnano, non bevono, se muorono di caldo. In più scoprono che la terra in cui devono andare è già abitata. Così alcuni iniziano a fassero del chiccherone e se la prendono con Mosè perché ha fin fine e il capo c'era lui. Gli israeliti se la stanno a passare talmente male che rimpiangono i tempi in cui erano schiavi in Egitto. Giustamente! E sta cosa al Signore proprio non va giù. Che poi per tutto il libro e per tutti i libri a seguire non fa altro che ricordargli che lui è il Signore che li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto. Sta termine in fissa questa cosa che sembra che ha fatto solo quella. Avvenimento tra l'altro storicamente mai accaduto. Comunque alcuni leviti decidono di far sentire la propria voce e si lamentano con Mosè chiedendo un nuovo leader che possa guidarli. E Dio che fa? Apre la terra e ne fa inghiottire 250 circa. In più comincia a sparare a palle di fuoco e incenda gli altri dissidenti comprese le loro famiglie donne e bambini. Ah, l'amore di Dio! Signore, ma perché ha dato fuoco anche a tutti gli altri? Non poteva punire soltanto i colpevoli ha ucciso loro e la loro famiglia e i bambini tutta la gente davanti alla tenda? Mosè sono forse io il guardiano di mio fratello? Cosa? No, scusa quello è ragaino ma sono confuso. Ah, comunque Mosè ma tu lo sai che vuol dire essere criticato tutto il giorno tutti i giorni e se lamentano per quello e se lamentano per quell'altro non vedrai che se lamentano più. Ma signore così il popolo la odierà non si fiderà più di lei non la amerà più anzi la temerà. Ma andai mi hai sentito che voglia amore scusa? No, ma mettiamo bene in chiaro le cose no, amore sì, timore obbedienza e questo è chiesto. Ma quindi lei non ci ha scelto come il suo popolo perché ci ama? Ma quale amore ma quale amore Mosè senti a te tu posso dire v'ho scelto perché sto scontando la pena i servizi sociali lascia a perdere mi hanno dato qualche migliaio di anni di volontariato non retribuito per la pena che ho scontato su un altro pianeta che devo fa? Ma in quale pianeta scusi? Eh, non lo conosci è il pianeta dei dinosauri mi hanno condannato per una cazzata che ho fatto qualche milione di anni fa a me fa parlare ma è terribile perché cosa l'hanno condannata? Guida di meteorite in strato di ebrezza non è nata a Fibere Il viaggio a una terra promessa è un macello in più Dio rosica talmente tanto che i suoi si lamentano per come stanno andando le cose che decide di non mandarci più una terra promessa infatti gli dice che loro moriranno lì nel deserto e sarà la nuova generazione ad accedere alla promessa che lui fece ad Abramo la realtà è che ogni scelta che Dio fa nel suo libro è una scelta ridicola che chiunque di noi con un minimo di buonsenso avrebbe fatto meglio Signore scusi il disturbo vedo che è molto impegnato ma le volevo chiedere una cosa dimmi Gabriele dimmi la terra promessa ha mai pensato di avvertire prima quelli che ci abitavano da secoli in che senso che me stai a chiedere Gabriele sarebbe stato tutto molto più facile niente guerra spargimenti di sangue niente violenza e certo e poi quando fanno livello Gabriele ma tocca farmi appunti esperienza ovvio che qualche NPC da combattere ci vuole non è che poi non fa tutto il tempo la quest smonta la tenda rimetti alla tenda affittamo domani così Signore sa che non è un gioco vero ci sono in palio delle vite ci sono uomini donne bambini tutti con i propri sogni i propri affetti i propri desideri vero questo è vero però ogni categoria dà punti esperienza diversi io penso a tutto ovvio che se Meghilli ragazzino paga meno di una turta armato ma è comunque expert eh sì ma signore spesso è proprio lei ad ammazzare i suoi uomini deve fare livello anche lei no quelle peride ma sono cose che se fanno tipo costruire la piscina mandagli a nuotare e levare le scalette per vederli a namparico prima che affogano è peride mica per cattiveria ma spero che poi almeno li accolga in paradiso a casa mia ma che sei matto no no questa è una cosa da vedere poi in futuro magari tra qualche migliaio di anni ho una terrazzata che ho chiuso però sto a aspettare con dono magari esiste mamola fidate ristrutturata via in paradiso però comunque devo parlare prima con mio figlio perché ha detto che ho la fase alla hobby i giovani d'oggi chi capisce suo figlio poi ti spiego è una cosa viene dopo gli anni passano e i di personaggi invecchiano a modo loro sembra persino sia giunto il momento di abbandonare Aronne il fratello di Mosè perché invecchiato o almeno così ha detto Dio bella Mosè senti un po' come sta tu fratello ah bene mai visto così in forma aspetti che glielo chiamano Aronne c'è il signore che la vuole un attimo oh mio signore creatore dei cieli Aronne ormai sei vecchio e stanco domani mori passi vestiti a tuo figlio signore io veramente sto benissimo proprio Aronne se ho detto che domani mori fidate no hai detto che muovi oh mio signore creatore dei cieli e della terra lungi da me l'idea di disubitire un suo ordine proferito dalla sua sacra favela ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato dice niente mi sa che non vi hai salvato grazie signore grande nota al signore viva il signore stasci sua signore perché fa morire l'ordine perché st'antipatico tutta st'abrosopopea st'omodo di parlava che è st'antipatico giusto lei è sempre giusto nei giudizi signore e lo so so fatto così una manciata d'amore e un pizzico di misericordia certo tutto conservato sotto stronzo in un barattolo però come? no l'orzo l'orzo ho preparato l'orzo in un baratto glielo vado a prendere poi glielo brucio come piace a lei aspetti le leggi divine emanate da Dio un Dio che è lì nel loro accampamento loro possono vederne la manifestazione sono guidati dalla sua nube Dio è lì e parla ma vi immaginate a quanto pare vivere in presenza di Dio non è abbastanza perché appena gli israeliti hanno contatto con altre culture c'è un fuggi fuggi dalle leggi che Dio che ti dico fermate sembra abbastanza chiaro che vivere con Dio è come vivere con un coinquilino che ti caga in cucina e ti mette il cazzo in bocca mentre dormi Mosè Mosè eccomi signore mi stava cercando se chiamo Mosè secondo te che sto cantando una canzone o te sto cercando sarebbe comunque stata una bellissima canzone senti Mosè per piacere qua situazione è grave il popolo se ne sta andando stanno a perdere un sacco di guariani che vanno tutti da peor ma che c'ha lui più di me è più bello è più ricco Mosè sii sincero c'ha più oro più possedimenti che c'ha lui che io non ho sincero 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 Mosè detto sincero la figa la figa sa come si dice ha più un pelo di figa che un comandamento di Dio ma che cazzo il proverbio è non lo so mi ha detto peor è guerra Mosè è guerra contro la figa contro peor Mosè che contrafica contrafica abbiamo perso iniziarono poi le prime guerre ordinate da Dio con ordini ben precisi sterminate tutti uomini donne e bambini dice come i bambini Dio de pace amore misericordia eh misericordia era rimasto senza mamma un po' di umanità in questo libro ragazzi comunque oltre gli ordini di uccidere tutti compresi gli animali c'erano dei cavilli da rispettare tipo di fare razzia prendere oro argento anche animali in buono stato e giovani ragazzine che non si sono mai unite con un uomo la cosa interessante è che questo moralissimo bottino di guerra andava diviso direttamente con Dio bravi stavolta siete stati davvero bravi in guerra grazie signore ho dato personalmente odio di uccidere ogni maschio ed ogni donna che si è unita con un uomo e perché scusa? perché impure signore e com'è che avete fatto a capire che non si erano mai unite con un uomo? ma guardi mi ci sono unito personalmente quelle che sanguinavano erano salve una fatica che non le dico ma per lei signore questo è altro certo se ti fanno così allora una parte di tutto il bottino di guerra comprese le donne ma date a me va bene? ma attrettamente signore comprese le donne e che ci facciamo signore? lascia fare Gabriel e poi ti spiego ma no tempo spieghi anche adesso signore che ti devo spiegare Gabriel sono schiavi di guerra sono donne al servizio di Dio e che servizio con precisione mi scusi è il servizio Gabriel in generale il servizio in generale va bene se hai abbiato l'angelo no lascia sta Mosè che sta rosica che ho creato senza cazzo poi gli passa comunque le cose non migliorarono continuarono ad avere fame sete a morire distenti e pacatamente osarono lamentarsi con Mosè Dio prima gli tirano faccia dei serpenti velenosi uccidendone a migliaia poi dice a Mosè senti vai a parlare con quella roccia che è amica mia di se te dà l'acqua e quella te dà l'acqua Mosè però decise d'atteggiasse un po' troppo invece di andare a parlare con la roccia gli dà due colpetti col suo bastone magico e quella fa sgorgare l'acqua e niente Dio rosicò e condannò anche Mosè a morire prima di entrare nella terra promessa per malosetto che morirò presto ecco mi chiedevo se si fosse sbagliato dato che comunque mi aveva promesso la terra no? la terra la terra promessa? si ricorda la promessa a me? a Giuseppe prima di me? a Giacobbe? a Isacco? ad Abramo? ah la terra promessa si si ci sto a lavorare tranquillo tranquillo si guardi non è che non mi fido però sa come si dice tranquillo è morto in abominio agli occhi del signore ecco Mosè te l'ho detto no? la terra dove scorre la temiere tutta la terra di Canan fino in Egitto un giorno sarà tua tutte le ricchezze tutti i possedimenti te l'ho detto ma quando? ha detto che muoio? vabbè tua di chi verrà dopo di te non sta a fare puntiglioso che è? nel libro oh ma vi siete iscritti al canale youtube? avete messo mi piace al video attivato la campanella prima di sempre aggiornati? queste pure sono regole dettate da dio eh anzi se volete fare nazireato e consacrare la vostra vita al canale potete cliccare sul tasto abbonati e supportarmi con solo 1 euro e 99 al mese per questo ringrazio chi già ha adempiuto all'obolo se girate su altri social mi trovate anche su facebook instagram tiktok oltre che ovviamente sulla nostra meravigliosa parrocchia viola signore gli israeliti si stanno ancora lamentando ancora? ma sono de goccio questi ma non è possibile dai lasciami pensare un modo per risolvere la situazione non lo trovo risolvere come? non è che intenzione di ammattarne ancora qualcun altro? e beh ma per forza ma io mi impegno mi ce metto con costanza indico loro le regole ordine indico la retta via la retta via quale sarebbe? non rompi coglioni al signore Mosè è solo quella la retta via non è difficile ma con gli eserciti che ci assegnano come facciamo? scusi ah Mosè come ammazzo voi ammazzo pure loro non è che devo chiedere il permesso ma vai che devo pensare devo pensare un modo nuovo buongiorno signore come va? ah Gabriele ma i serpenti vanno a salgente già musati bene vedo che va tutto come al solito grande lode al signore questo tono che usate per dire grande lode al signore mi pare ironico non vi sento convinto ammappete e quindi ridendo e scherzando siamo giunti alla fine del libro dei numeri e ridendo e scherzando ridendo e sterminando altro che il libro del censimento del popolo di Dio Dio li conta per questo si chiama il libro dei numeri ma dopo averlo letto sembra che in effetti li conti per vedere quanti ne può ammazzare prima di estinguerli così per giocar per passar tempo questo è il Dio dell'Antico Testamento chissà che soddisfazione quando ha scritto l'ultima pagina è chiuso il libro dei numeri te sta scrivendo signore ah Gabriele qua ho finito un altro libro della saga che sto a scrivere questo è il quarto tiè punto finito una bomba guarda già mommagino vendita a tutte le librerie una copia in ogni casa è interessante di che parla e niente è la storia mia ed è come interagisco con l'umanità ah un horror poi ecco ho finito pure il quarto libro già c'ho mente il prossimo lo chiamerò Deuteronomio e che significa? cazzo ne so però senti come sarà bene Deuteronomio è un nome importante ma non ha paura che gli umani poi ci facciano troppo affidamento se fa passare la voce che l'autore del libro è Dio rischi che poi prendano tutto alla lettera no no ma a te pare ma c'ho scritto delle cose assurde sopra che fa capire che è un'esagerazione no è un'iperbole per far passarti i tipi dei messaggi tipo? ma ad esempio qua in un punto c'ho scritto che chiunque veneri altre divinità all'infuori di me deve essere messo a morte no? è chiaro che è un'esagerazione per far passare un altro messaggio il messaggio è ama il prossimo duo come te stesso è un'iperbole capisco capisco può venire un attimo con me signore? a fa che? andiamo a ripassare l'uso e il significato della parola iperbole potrebbe tornarne utile venga venga iperbole non è quando grazie grazie a tutti grazie a tutti